L'Onorevole Gualtieri innanzitutto con la sua replica a chiusura di una discussione così vivace e variegata. Grazie Presidente, ma in questo dibattito sono emersi molti spunti, molti contributi importanti, anche alcune osservazioni critiche rilevanti e mi è impossibile in questo poco tempo rispondere a tutti. Tuttavia volevo seguire un filo di ragionamento, partendo proprio dall'osservazione giusta del collega Rangel, che sottolinea quello che in realtà è proprio l'obiettivo del rapporto. Non quello di parlare di integrazione differenziata come fine, ma quello di sottolineare che essa è un mezzo, un mezzo reso necessario dall'attuale condizione di asimmetria tra Eurozona e Unione, peraltro temporanea, tranne che per il momento per alcuni Stati in opt-out, ma che tuttavia l'obiettivo e la filosofia dell'integrazione differenziata come mezzo e non come fine che noi proponiamo è quella appunto di uno strumento per salvaguardare l'unità dell'Unione e per consentire che questa integrazione, questa costruzione di una governance dell'Eurozona appunto poggi sulle istituzioni dell'Unione e quindi sia democraticamente legittimata. Anche per questo, delle varie procedure che noi indichiamo, individuiamo, quella richiamata dall'onorevole Scholz della cooperazione rafforzata è solo l'ultima in ordine di priorità, noi crediamo che bisogna sempre cercare di partire da atti giuridici di carattere generale cui magari inserire deroghe, deroghe che sono previste storicamente e giuridicamente dall'assetto dell'Unione eventualmente passare al 136 e solo come ultima razio arrivare alla cooperazione rafforzata appunto in coerenza con questa filosofia di una differenziazione fondata sull'unità naturalmente sono emersi alcune sensibilità diverse soprattutto sul punto politico di fondo quello del Parlamento, della sua eventuale differenziazione in particolare la collega Goulard, portavoce diciamo così di un orientamento che punta a considerare come le ha detto legittimo quello di una istituzionalizzazione dell'Eurozona io invece continuo a pensare che solo facendo leva sulle istituzioni attuali e non arretrando sul carattere del Parlamento di rappresentanti di tutti i cittadini si potrà dare un'adeguata risposta in termini di legittimazione democratica e che la strada della differenziazione interna al Parlamento o tra questo Parlamento, un eventuale nuovo Parlamento, non porti molto lontano e peraltro porti in una direzione che è diversa da quella che attualmente stiamo percorrendo se si pensa che sull'SSM si è accettato il principio del voto che oggi abbiamo tenuto un voto di consenso del Parlamento sul vertice di una istituzione, di una funzione che non riguarda tutti i Paesi dell'Unione ma questo voto vincolante è stato ottenuto da tutti questi parlamentari, si comprende come in realtà su questa strada già si sono compiuti dei passi avanti e quindi credo che questo rapporto insieme con altre molte indicazioni costituisca un contributo importante a tenere questa linea che è l'unica, credo, che ci possa portare con coerenza a seguire un filo conduttore tra la differenziazione necessaria di oggi e l'unità possibile di domani. Grazie Roberto. Grazie e chiudiamo la discussione con l'intervento dell'altro relatore e l'onorevole Schoepflin. Grazie Presidente. Faccio le parole di Roberto Gualtieri, è stata una discussione estremamente interessante da cui trago alcuni elementi che voglio...